eccoci ciao fischiello buongiorno si va a pescare fa un freddo dal lupi quella che è inquadrata dietro è la rai io ci ho lavorato un po' d'anni e qui c'era un monte d'alberi dove c'è stato il macello del disastro fa vedere il disastro del consul dell'uragano e questi due venite qua guardali guardali stiamo oltre sole forse giriamoci ecco siamo numerati abbiamo la spedica Michele e Massimo che ci porteranno al lago di Bolsena ora siamo al lago di sicuro a pescare vedremo con questa parca fa oh duce al trollium e mecca e si va su questa parca questo è un missile quante belle è? un motoscafo lago di Bolsena andiamo si parte si va a pescare Michele che si pesca? passa i black bass tu godiamo un po' ogni tanto la fa mi godere anche me Gianfra va piano vado in bischero si sta facendo un po' di fila come si fa come si fa a montarci sotto ci sono già stato e sono barche comodissime si vedai che sarà una grande esperienza fa un freddo dal lupo ma fa un freddo dal lupo ma fanno vedere questa felpina vieni facci arrivare il fresco vieni un pesciolino una scrittina che poi loro fanno legare sul nostro sito www.bonapesca.it bravo ci sono sia le magliette che sono qua sotto tracca messaggio pubblicitario stiamo a pescare che loro sono un campano legato questi sono bravi infatti ci insegneranno un bel cuore oggi si parte buona pesca buona pesca a tutti c'è n! ho so lascuda gioste! so Ooooooooooo! e tocca a lui guardalo guardalo vedi il merito è della mia canna giustamente è il primo pesce del bolsena è una vita che volevo venire a pesca questa tu l'ha ferrato benissimo l'hai ferrato benissimo l'abbiamo visto c'era però bravo 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 attenta la canna sotto i piedi no, c'è eccolo bellina dai eh si si mamma mia bello affandommo vai bello 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 diciamo agli amici che abbiamo un problema di vento di conseguenza l'audio si si ci saranno risentirete questo rivedrete risentirete il filmato sono un po' di casino quanto l'importante se l'ho sentito vattato alla custodia non è che è Gianfranco ubriaco non è colpa nostra hai messo due artificiali uno dietro l'altro ma qual è l'artificiale? ma qual è l'artificiale? siete tutti simpatici ma questa è la nave ma quella è la nave di 2000 e mezzo è una nave ci sono le nave anche qua ragazzi no era enorme ma gli andate a luce eh oh vuole la mangiare lui non ci dite vuole la mangiare lui se non mangiano pesci e si mangiano mangiano cristiani bellissimo al lago di Bolzana non è bello è bellissimo ma questo sapere giro eccolo vai presto per l'orecchio anche è un pochino più giro attento ma è che sei piccino ma è perché sei piccino è tutto un portachiave ecco che cos'erano quelle piccine che davano, quelli li, i tuoi amici, erano questi due anche quasi normali, ecco, in diretta era perfetta, scusi il PCT della Nazionale, a me mi sembra un bel senso, no eh, no non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, per il mister non ci siamo, e il mister lo vuole grosso, siamo fiduciosi, arriverà, viene in acqua, andiamo a cercare quello del mister, cerchiamo il pesce del mister, una ciughetta, sì, volevo partecipare alla tua pescata, sapere un negozio, ecco, ora non ho detto nulla, faccio un crank e ti ho andato nella schiena, se qualcuno me lo leva, vuoi una mano? sì, grazie, perfetto, esattamente tu, eccolo là, eccolo qua, fatto, questo mi comincia a piacere, no, 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 e sembra un'arciuga, faccelo godere un po', dagli un po' di fila, grazie, e si, mi dà un po' di fila, e si fa, guarda, a parte se le pianta, non le cervice, ma tu poi, capito, non tira fuori in un anno secondo, e gli viene un aneurisma, da cosa, come va veloce, bella, ci ha dato anche il saluto, eh? questo è un bel pezzo, questa è la gioia più grande, questa è la gioia più grande, no, 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 stai zitto, stai zitto, stai zitto, no, bello, è un lucio, che ti ha preso? non vedo un lucio, è un lucio, no, non basta, è grosso, calmo, calmo, è un lucio, no, sono eccitatissimo, è un mostro, Gianfra, andamelo qui, tiramelo qui, che lo figlio io, guarda, attaccato, è il fondo, gli ritappo, voglio, vai, 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 questo sì che mi piacere, questo sì che volevo, bello, guarda che ci ha fatto, e tutto lo porta a letto, un gamberino segreto, servizio fotografico, Gianfra, grande, vado, vai, vado, è ciabatta, madonna bello, hai visto, te l'ha preso di tutte le taglie, come tu dicevi, il gamberetto rosso, un tonnero fiducioso, ma il cittino, grande, il cittino è il cittino, il cittino è il cittino, grazie, venga, io pesco, vai Michele, ah così proprio, è come un capello, meglio così sì, bisogna evitare che si puoi la lingua, perché la lingua è molto delicata, ah sì? no, vado è molto, no, bello, continuo da sotto, lo volevo, lo volevo, lo volevo, stavo zitto, zitto, stavo zitto, ora si può andare, ora si può andare via, che dici, si li butta? ma, lo fai con me, lo posso tenere anche un po', quanto sarà pesa, 6 kg? no, te lo spiega un attimo all'acqua, te lo penso, forse come il mio, non credo, uguale, forse sì, sarà un acciugano più, vai, aspetta, eh, ciccio, grazie, tenta di alzarti, perché volo, grazie per essere venuto, ciccio, ti aspettavo, disse lei dopo due ore, sì, dagli un po' di movimento, però, eh, non c'è problema, tac, ragazzi, io però, ho portato sempre sui pesci, bravo, vogliavate, sei perfetto, insomma, grazie a questo manuale, oggi abbiamo fatto una rischia, di noi, uscite, tornate imparati, ragazzi, ma si è preso dei pesci mostruosi, ma la Michele, questo è lui, qualche chilo fa, davvero, lì ti avevi mangiato, fa notte, c'è la Sardegna, guarda dove li pescavo, qui ti avevi mangiato, io, qui ti avevi mangiato, ragazzi, lo spettacolo, il bolsero, ci siamo divertiti, da matti, ci siamo divertiti, da matti, giornata fantastica, e si è preso un monte di pesci, dai salvatanai, dai portachiavi, a pesci da trofeo, questo è un bel davvero, i nostri due amici, eccola in cima, girati Michele, c'è il cittadino, eccola, visto c'è la stessa amice, grande, che è il vice cittadino nazionale di Pass, del lago di Bolsena, e noi ci alleniamo, noi ci alleniamo, e poi, guarda, qual di figo, vedete, una buata di pesci, però sono io a montare il filmato, quindi volendo, che li taglio tutti, grazie a Massimo, grazie a Michele, ci avete fatto passare una giornata, super, super, in un posto bellissimo, la canna è nell'acqua, la canna è nell'acqua e si perde, ed è la canna di chi? Una milionaria, la mia era l'amata, la tua? Non è la tua? La mia era l'acqua, la mia era l'acqua, la mia era l'acqua, è stato bellissimo, amici, buona pesca, ciao, alla prossima, torneremo anche sul lago di Bolsena, ho chiamato i nostri amici, qua, i segreti del bus fishing, sono bravi,